Ciao amici, oggi dopo tanto tempo sono tornata in ufficio perché dovrò scattare delle foto per una campagna molto molto bella che vedrete la settimana prossima e vi posso assicurare che vi piace davvero tanto ma tanto 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 secondo voi che cosa di cosa sto parlando scrivetemelo qua in DM Meglio che sto zitta Meglio non parlare oggi Vale, non ci siamo Oggi no Oggi giornata un po' particolare E' tutta una manovra Mi sento male ragazzi Le giornate sono belle anche per questo Così un po' le cose all'ultimo Ma va bene, va bene No, bene No, bene